Musica Bene, io sono Emi Vaccari, danzatrice musicista, mi occupo di danze popolari e storiche, il lavoro che svolgo è il lavoro di ricerca e di recupero e di proposta. Le persone che vedete alle mie spalle hanno costituito e costituiscono una compagnia di danze popolari dal nome Compagnia Eufonia. Noi oggi abbiamo preso parte a questo evento e il nostro intervento si è soffermato sul forte potere comunicativo che hanno queste danze. Per una volta finalmente, posso dire, ci siamo allontanati dai tecnicismi per avvicinarci alla parte emotiva di queste danze. Hanno preso parte a questo evento anche il progetto nel quale suono, che è Antonio Grosso e le Muse del Mediterraneo, a testimonianza del fatto che nella prevenzione bisogna mettere una serie di messaggi che molte volte vengono meno, come ad esempio l'educazione alla musica e alla danza. Grazie. Grazie.